bella ragazzacci buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo video ragazzi belli oggi proviamo la kingdom below 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 una novità andiamoci a leggere un po di informazioni capiamo come il meccanismo facciamo un po di informativa e poi ci facciamo qualche giocata allora bellissima l'animazione come tra virgolette quasi sempre play and go grab feature andiamoci a leggere un po di queste informazioni quando attiva la bestia raccoglie tutti grab symbol sul rullo sottostante slide and grab raccoglie tutti i grab symbol su tutti e cinque rulli aggiungendo un multiplier pari al numero dei rulli in cui sono stati raccorti simbolica abbiamo i free spin vinci fino a 50 free spin dobbiamo scegliere i fuochi ci sono svariati modificatori appunto raccoglie il fireball per guadagnare altri modificatori e free spin aggiuntivi molto bene simbolo top la corona simbolo minimo il 10 12 linee di pagamento che altro semila per la puntata è il la max win e la rtp è del 94 e 25 per cento puntata minima 10 centesimi puntata massima 50 euro io la schiaffo subito a 20 raga e se levamo il pensiero mi metto un po più qua raga iscrivetevi al canale lasciate like mi raccomando attivate la campanella su tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti vi ricordo che il gioco è via da minori può calcare dipendenza motologica ragazzi vi sconsiglio sempre di giocare lasciate fa non giocate che al gioco si perde se siete già giocatori assicuratevi di farlo su siti sicuri e legali con regolare licenza adm se non sapete riconoscerli sul sito dell'adm avete la lista completa di operatori legali per l'italia altrimenti in basso in descrizione nei commenti trovate un link cliccabile a titolo informativo che vi riporta una comparazione di soli operatori sicuri e legali per l'italia con regolare licenza adm dove potete giocare anche in demo raga dove potete sfruttare qualche bonus senza deposito comunque io ve lo sconsiglio sempre lasciate qui mi scrivete le slot e le provo io ho 200 euro come i pappagalli pagano porco giù vediamo un po' se ci dà almeno 3 scatter giusto per vedere il gioco bonus da come sta scritto nelle info è piena 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 dei come si dice dei funzioni quindi voglio dire vediamo le se funzioni no ogni tanto sta quel pappagallo là sopra che si muove a destra e a sinistra ma non serve assolutamente a nulla almeno per ora secondo me questo nel gioco bonus è come quell'altra slot sempre play and go non ricordo che ne hanno fatte anche due una un po' più recente se lui si ferma sotto ai simboli raccoglie se ci dà la come si dice se prendiamo qualche funzione speciale raccoglie tutti i simboli presenti nello schermo io credo sia più o meno così comunque fa male il collo vediamo un po' dobbiamo prendere questi tre simboli per ora tutto tace eh vabbè che io sapete benissimo che davrei che ancora non mi aspetto qui niente zero queste pigliano e magna pigliano e magna che non mi aspetto manco di vedere un gioco bonus ragazzi pigliano i scatter pare che li può mettere su tutti i rulli quindi eh non solo primo terzo e quinto rullo a quanto pare scatter là insomma rimasti tre e venti eh sta a mangiare sta a mangiare veramente tanto rimasti i mortacci sua e e eh ma magna solo però eh, cioè facci vedere qualche funzione, dai svegliatevi regà, ma potete fare questo cazzo di giochi voi, dico io, boh, cioè è serio, boh, non lo so, cioè avete questo motore di pagamento che veramente fa schifo, ho peggiorato tantissimo secondo me, porco giuda, eh ci ha rotto raga, bisogna ricaricare che fa, cioè non dà gioco proprio, capito, non dà gioco, ti leva proprio il piacere, non boh, sti play and go, porca miseria, bella grafica, ma potete puntare tutto sulla grafica ragazzi, datevene una svegliata, cioè grafica bellissima, ma se punti tutto sulla grafica, non ha 50 euro ogni tanto, ce la può pure dà, eh invece sta avvelenata intanto poi prendiamo il gioco bonus che fa schifo, eh, non vi pensate sta poco da pensare diamo un gioco bonus che farà schifo e sta apposta questi non li paga sta linea, chiaramente, perché sennò era troppa grazia, vero? grazie 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 che è successo? ancora non gli è girata la testa avanti e indietro eppure questa è andata, ragazzi, io mi posso far massimo l'ultima, eh poi veramente basta no, che totica fa si, rifacciamoci l'ultima e poi, oh, la mandiamo direttamente da una parte ora mi è nervosisco, eh ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanella su tutte le notifiche mi raccomando ultimissima, eh poi, oh, eh se ce lo dà, ce lo dà, se non ce lo dà, non ce lo dà io la rischiaffo a 25 vediamo che... slide and grab ok, questo raccoglie tutto quello che non c'è perché non ce lo mette, no? mamma, e mo' gli tiro la sedia, mi giuro neanche uno, non ne ha messo neanche uno guarda che pagliacciata, oh io non gioco più una play in go, ragazzi basta questo è l'ultimo video a una play in go, stop se ci metti il bonus chiudo il video bene basta vaffanculo e l'avevamo fatta, no? mamma mia scegli un fuoco per ogni fuoco raccordo verrà assegnato un modificatore casuale possono essere assegnati modificatori evoluti i multipliers si applicano sulle vincite grab symbol questo almeno un grab symbol ho capito un cavolo ah, almeno uno, quindi, vabbè che è sta roba qua sopra, però? 150 come faccio io qua? qua a zucchettina? no a me sa che deve addirittura riattivare, raga ah, no ah, no devo uscire la zucca sotto a questo e li lo bloccano c'è qualcosa di più profondo il cinquantello costa, eh costa seria, eh sono rimasti quattro spin, raga oh, ma le zucche dove stanno le zucche? su li mette dappertutto tranne dove servono sei di un imbarazzo totale, oh totale, raga scatenatevi nei commenti perché voglio proprio sentire la vostra opinione, raga quindi scatenatevi per favore nei commenti c'è non ci posso credere, veramente è allucinante ma che c'è stato per profondo 25 euro e non voglio manco essere volgare vi dico la verità non mi vale essere volgare ha pagato più sto tiro che il bonus questi non ce li mette mai non esistono che imbarazzante cioè hanno fatto una slot imbarazzante veramente queste secondo me loro non l'hanno manco provata cioè capito? che fanno? proviamo a prendere un altro bonus? non ce proviamo? non lo so non so proprio che fa cioè non la leverai veramente adesso io mi sembra che proprio ora la levo io sarà un po' più corto il video è veramente veramente è imbarazzante eh questo è il culo quante è? da questo è il culo ma mi piace e questo è il culo Non lo sa manco lei come ci ha dato sto colpo 4.000 la togliamo Non so come abbiamo Non lo so Ogni tanto allora C'ha pure senso diciamo Dai Ma è troppo bestiale E' veramente troppo bestiale Capito? E dacci un altro bonus Questi 4 tiri che sono rimasti no Facci vedere Magari a betmax Qua non ce l'ho qui Vabbè comunque voi raga Fatemi sapere che ne pensate Comunque Ditemi la vostra Che la voglio proprio sentire Guarda vediamo se abbiamo dei pareri discordanti Oppure no Raga io la chiudo veramente qua Basta Mi fermo qua E' stato un miracolo Raga questo è stato un miracolo C'è inaspettato proprio C'avete visto il video no? Miracolo inaspettato Quindi La chiudiamo qua Abbiamo visto La Below Fatemi sapere nei commenti Che ne pensate De sto gioco Sta novità Playing Go Ditemi la vostra Se volete lasciate un'iscrizione al canale Lasciate like E attivate la campanella Su tutte le notifiche Per non perdere i prossimi contenuti Kingdom Below Penso che ho detto tutto Vi ricordo che il gioco è vietato ai minori Può causare dipendenza patologica Raga mi raccomando Non giocate che al gioco Se perde Non vedete Sa botta De culo finale Ma al gioco Se perde raga Se siete già giocatori Assicuratevi di farlo Su siti sicuri e legali Con regolare licenza ADM Se non sapete riconoscerli In basso In descrizione del video O nei commenti Potete trovare un link Cliccabile A titolo informativo Che vi riporta A una comparazione Di soli operatori Sicuri e legali Per l'Italia Con regolare licenza Dove è possibile Giocare in demo Sfruttate qualche bonus Senza deposito Ma io vi sconsiglio Sempre di giocare Nei commenti Iscrivetevi Che slot Volete vedere E io piano piano Le provo Da Anzio E della Kingdom Mi loco Per oggi è tutto Vi auguro una buona giornata Bella raga Grazie a tutti